Ciao a tutti, allora video haul primavera, è da un po' di tempo che non giro un video sugli acquisti accessori, abbigliamento, scarpe e quindi vi faccio vedere che cosa ho preso nelle ultime settimane, un po' di negozi misti, allora intanto a Milano è finalmente, sembra arrivata la primavera quindi finalmente si può iniziare ad usare qualcosa perché avevo preso delle cose e improvvisamente ovviamente subito dopo il periodo insomma in cui avevo fatto questi acquisti era tornato tipo l'autunno, non dico freddo però sapete con le giornate un po' uggiose, grigie, dove piovigina non c'era stato insomma modo di poter usare queste cose, quindi random, pesco, allora sono stata da H&M e in questa puntata da H&M in realtà sono stata lì per cambiare un caricabatterie dell'iPhone che purtroppo avevo preso, sembrava funzionare benissimo, ne avevo preso quindi un secondo perché ero entusiasta del fatto che finalmente l'iPhone non rifiutasse il caricabatterie, non so se succede anche a voi, dice appunto che l'accessorio non è supportato, niente anche questo ha smesso di funzionare, l'ho riportato e me l'hanno cambiato con dei calzini, c'era la promo, calzini voi direte ma Silvia come mai dei calzini? Ormai so che siete abituati, c'era la promo per cui praticamente erano tutti a metà prezzo quelli proprio corti corti e quindi ho preso due pacchi per andare in pari con la cifra che sono, vediamo se riesco a tirarli fuori, sì sono legati però dovrei, ai mi sono spezzato un'unghia, dovrei riuscire a farveli vedere sono tutti con tema ancore perché ovviamente lo sapete appena arriva la primavera io mi fisso con sto tema quindi questi così, poi blu, poi semplicissimi bianchi e a righe, poi rossi, poi grigi e poi con le ancore che sono troppo belle, vi ricordate che io ho una camicetta tutta così con le ancore quindi gli altri invece sono sempre con le righe, vediamo se anche questi si riesce ad aprirli ok quindi con le righe, neri, rosa pesca, coi pois, che poi sono delle specie di rondinelle su sfondo bianco le stesse ma su sfondo grigio, neri e latte e menta con i pois neri quindi scorta di calzini, non so se sono, se siano ancora in sconto ma se lo sono prendete praticamente due pacchi così, tutti questi due pacchi a 7,99 euro, proprio eccezionale poi, passando a più care cose, sono stata da Zuiki perché in sostanza da Zuiki avevo adocchiato questi pantaloni, questi jeans ma non c'era la mia taglia, c'era la 42, mi stava enorme e ne cercavo la 38 per cui, diciamo che le ragazze sono state gentilissime, mi hanno dato il numero di telefono perché avrebbero avuto degli arrivi nei giorni successivi e ho chiamato ed erano appunto arrivati mi sono piegata anch'io alla moda del momento e ossia al fatto che adesso vadano tutti questi patch appiccicati in ogni dove che non mi piacciono tantissimo, mi ricordano moltissimo ovviamente gli anni 90 in cui io appunto avevo 20 anni, i gloriosi anni 90 e si usavano veramente tanto corsi e ricorsi della moda sono tornati in voga ho preso quindi questi boyfriend jeans perché sulle felpe, le magliette così non mi fanno impazzire su questi jeans mi piacevano molto quindi sono dei boyfriend jeans, quindi belli morbidi, diciamo tutti super strappati con questi patch vi faccio vedere prima appunto questa gamba guardate qua che carino questo gelato e poi da quest'altra parte cosa c'è? c'è pink, la dolce vita, il gattino e tutti i vari strappi eccoli qua mentre dietro non ha niente se non le tasche così strappate e dietro non ha fortunatamente altri strappi è molto molto morbido come jeans abbastanza tipo liso, no? e con questo lavaggio molto molto chiaro per cui per me è proprio un jeans veramente giusto estivo, primaverile non lo metterei mai in inverno perché secondo me è un lavaggio tipicamente estivo poi sono stata da Foot Locker ah ma da Foot Locker non ho preso niente io questo è un regalo, un bermuda per mio fratello e Pablo ha preso delle scarpe poi sono stata sempre da Zwicky un altro giorno, cioè il giorno in cui avevo adocchiato taglia 42 il jeans che poi ho preso nei giorni successivi e ho preso varie cose allora, ve le faccio vedere le tiro fuori dal sacchetto allora, ho preso una maglietta che vorrei utilizzare soprattutto per gli allenamenti in palestra soprattutto, diciamo solo perché se io uso una roba per gli allenamenti in palestra poi non la metto per il resto del... cioè per altre occasioni diciamo che la va a destinarsi solo per gli allenamenti vedrò comunque la magliettina in questione è un crop top nero con la scritta e mi piace moltissimo proprio perché insomma in palestra faccio allenamento coi pesi quindi girl power va benissimo questa è molto carina vedete anche tipo delle specie di borchiettine applicate ecco sulla stampa gialla e sempre nella stessa filosofia c'era anche la felpina nera con le maniche corte adesso vi dico anche i prezzi che mi piace tanto da mettere su un pantalone bianco che adesso vi farò vedere ed è una felpettina appunto così quindi un po' oversize infatti questa è una S non c'era più piccola però rimane appunto come vedete oversize molto lunga anche con la scritta Wonder Woman è lo stesso simbolo appunto è della serie che adesso Zuiki sta facendo dei supereroi questo è il simbolo appunto di Wonder Woman eccolo qua la felpina l'ho pagata 12,99 la maglietta 7 mi pare 7,99 e questa felpina qui che è una felpina garzata è molto 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 leggera ovviamente è una felpina primaverile l'ho presa da abbinare a questi pantaloni che sono appunto i soliti culotte pants di cui vado pazza per cui vado pazza che sono appunto così larghi con il risvolto in fondo vedete niente dietro sono fatti così davanti con le pants adesso sono tutti molto sgualciti ma mi piace molto l'abbinata sotto la felpa così mi piace tantissimo con la scarpa da ginnastica tipo adidas superstar e i pantaloni li ho pagati se non sbaglio 19,99 20 euro poi sempre lo stesso tipo di pantaloni ma questa volta gessati solo che questi pantaloni li devo far modificare sempre 19,99 sempre solito modello ma molto più largo in fondo vedete gessati così con la cinturina in vita che non è che mi faccia impazzire probabilmente li userò senza fuschacca in vita la cosa che non mi piace di questi pantaloni è che quando li avete indosso si vede la forma qua della tasca quindi io la tasca la taglierò e farò cucire qua la tasca cioè l'apertura della tasca farò passare la macchina da cucire alla sarta in modo da chiuderli perché insomma è veramente brutto è quella stoffa un po' trasparente che fa appunto vedere il segno della tasca per il resto non sono particolarmente trasparenti ma comunque io li utilizzerei con una magliettina non proprio corta in vita questi qua per cui ho già visto che non si vede niente sono stata da H&M in un'altra occasione e sono stata anche da Tully Vail Vail Tully Vail mi sembra si legga e allora iniziamo e ho messo tutto dentro la stessa sacca la stessa busta il stesso sacchetto la stessa sportina per le bolognesi so che in Italia si dice in tanti modi diversi a Milano si dice busta praticamente quella per inviare le lettere invece da Toscana Roma in giù anche in Sardegna si dice busta in quel di Bologna so che si dice sportina comunque questa è la giacchina che ho preso da H&M l'ho pagata anzi no costava 29,99 ma faceva parte di quelle grucce diciamo delle cose in offerta quindi l'ho pagata 15 mi piace moltissimo ecco lo stile un po' kimono etnico qua con la manicara gland che qua poi è stretta sapete un po' largo ma quello che mi piace tanto è la fine che è appunto fatta così con tutte le frange ed è appunto l'ideale da portare in questo periodo in cui si ha bisogno di una sorta di soprabito leggero che insomma questo qui è piuttosto leggero è un tessuto ve lo faccio vedere da vicino è un tessuto molto molto sottile ecco per cui va bene per il periodo 30 euro non l'avrei probabilmente comprata 15 euro sì mi piace mi piace moltissimo poi cosa ho preso inoltre ecco avevo messo qua dentro anche sapete che sono una fan sfegatata delle cose che porta la Lidl della Krivit compro tutto quello che porta della Krivit perché lo trovo di ottima fattura per la palestra ecco non riuscivo ad arrivare al dunque e quindi ho preso questi leggings a Corsara ma la Corsara quindi sotto il ginocchio che uso sia per andare a correre che per la palestra sono comodissimi perché hanno il posticino dove mettere la chiavetta dell'armadietto o la chiave di casa quando andate a correre soprattutto d'estate adesso se vado a correre ho comunque un giubbino di nylon sopra tipo un QA che ha la tasca però ecco se vado d'estate non so veramente dove mettere le chiavi e questi sono comodissimi anzi non so ma quando vado d'estate poi sempre da H&M ho preso questo cerchietto che mi piace moltissimo perché come vedete ha un fiocco ma il fiocco è provvisorio in questa posizione perché lo potete rifare voi dove vi pare perché vedete in sostanza è così quindi potete sia farlo qua dietro la nuca se magari raccogliete i capelli con uno chignon sotto ci fate il fiocco oppure vedete fate così e fate il fiocco così magari qua laterale ora non ricordo questo quanto io l'abbia pagato forse aspettate che forse ho lo scontrino non ne sono sicura no non ce l'ho credo di averlo pagato 3 o 99 una roba del genere poi sono stata appunto da tagli e da tagli ho preso solo degli accessori in realtà sono entrata perché ho visto che avevano gli elastici neri dopo un po' si perdono tutti gli elastici neri quindi una bella manciata di elastici neri a 1,99 e passa la paura poi ho visto degli accessori ho afferrato qualcosa e nello specifico ho preso erano di quelli scontati che probabilmente appartenevano ancora ai saldi o ai rimasugli dei saldi non so e ho preso questa collana delicatissima che adesso si è un po' intrecciata a dire la verità vediamo se riesco a dare un senso al al tutto non credo la vedo un po' la vedo un po' da sbrogliare comunque vedete ha questa nappina finale così molto carina poi questa sorta di sapete tipo la lavorazione del rosario di una volta e vedete altri ciondolini che pendono tra cui questo che sembra tipo un piccolo cristallo insomma nell'insieme molto delicata molto carina 8,99 il suo costo originario invece io l'ho pagato appunto 3,99 mi piace moltissimo questa è una collana appunto multifili che devo ripeto sbrogliare prima ecco forse ce l'ho fatta no ho complicato solo la situazione bene rimettiamola dentro la sua bustina e poi andrò a sbrogliarla l'altra è più semplice da farvi vedere perché è un unico filo però anche qua c'è stato un quiproquo alla fine no ecco ce l'ho fatta costava 6,95 e invece l'ho pagata 1,99 ed è appunto così vedete come la maglia piccoli pallini e nella fine della collana c'è una nappina turchese con tutti questi pendaglietti io adoro il turchese d'estate è uno dei colori per i gioielli che mi piace infatti ne ho già parecchi in questo stile e da talli e h&m ho finito ultime cose ho preso un paio di scarpe da zara perché come tutte voi sapete insomma il rosa quartz e l'azzurro serenity sono i due colori pantone per la primavera estate 2016 quindi ho preso un paio di scarpe di cosiddette slipon con la con le frangettine qua in pelle o similpelle non so esattamente scamosciata suede rosa appunto quartz così da mettere con tutti i miei migliaia ormai di pantaloni culotte pants mi sembravano veramente l'ideale e queste le ho pagate 39,99 le ho già indossate e in abbinata ho preso anche uno zainetto che costava 19,99 molto capiente l'unica pecca è che non ha una chiusura eccezionale adesso vi faccio vedere 19,99 in similpelle appunto martellata rosa quartz super essenziale nella linea perché veramente essenzialissimo però se voi qua non fate il nodo tende ad aprirsi perché vedete che il battente non ha nessun tipo di bottone che va a chiudersi qua per cui una volta che lo mettete sulle spalle se ciò che ci mettete dentro è molto pesante tende a fare questo tipo di lavoro quindi dovete fare un nodo ogni volta un po' una rottura però insomma costa 19,99 ed è veramente molto carino resistente ci sta un sacco di roba quindi diciamo che ce l'ho in uso permanente al momento è proprio lì che a meno che io in questi giorni non stia usando delle tracolle piccole l'alternativa è che vado fuori con lo zaino quindi passo dallo zaino gigantesco alla tracolla abbastanza di dimensioni ridotte e basta credo di avervi fatto vedere tutto questi erano i primi acquisti dico primi perché tanto è inutile fare promesse vane tipo non comprerò nulla fino ai saldi lo so che non riuscirò a tenere fede non dico che comprerò un sacco di cose mi sto rendendo conto che di anno in anno compro un po' meno perché tante cose di moda che ci sono le ho veramente magari compro i trend di stagione che mi entusiasmano tipo culotte pants come se piovesse perché mi piacciono tantissimo lo zaino perché anche questo è un trend di stagione che io non avevo infatti ne vorrei già un altro perché ne vorrei uno nero grigio non so neanche io ma comunque uno zaino scarpe perché di scarpe insomma non ce ne è mai abbastanza però ecco che magari altre cose vengono riprodotte soprattutto in questi negozi un po' simili a quelle dell'anno prima quindi effettivamente devo dire che molte cose molti trend che ho visto nei negozi effettivamente sono cose che ho già comprato quasi uguali simili eccetera tipo quando mi era venuto la roba di avere gli shorts di jeans cioè tipo ne avrò non so 50 50 pezzi una roba del genere per cui adesso anche se li vedo in tutte le salse è raro che mi ispirino gli shorts perché ne ho veramente tanti detto questo questo è tutto e quindi noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao